Resta poco sopra il 3%, al 3,6 per l'esattezza, il tasso di positività al Covid-19 riscontrato a seguito dell'analisi di 2.339 tamponi nelle ultime ore. Infatti sono 84 i nuovi positivi, con un range d'età compreso tra 1 e 93 anni. 6 le vittime nell'ultime 24 ore, decurtate di 2, risalenti ai giorni scorsi, ma comunicate solo oggi dalle asle competenti. Dunque il bilancio dei decessi da inizio emergenza è di 1.137, aggiungendone gli otto odierni. Sta progressivamente diminuendo la pressione sulla rete ospedaliera, netto il calo dei ricoveri, meno 21 rispetto a ieri, ora a quota 534. Di questi 41, meno 2 rispetto a ieri, sono in terapia intensiva. 11.673 persone, meno 395, sono invece costrette all'isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle asle. Cresce a buon ritmo il numero dei guariti o dimessi dalle strutture ospedaliere. Oggi sono 496 per un totale di 20.235. Dunque gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 12.248, meno 418 rispetto a ieri. Complessivamente, da marzo ad oggi, sono 33.620 i casi di positività riscontrati nella nostra regione.